Emergenza cinghiali. Nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, entrano in azione i sele controllori. Sono 232 coloro che sono risultati idoni alle prove teoriche e pratiche, nonché in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Nella giornata di ieri, presso il centro della biodiversità e località Montisani, a Vallo della Lucania, la consegna ufficiale dei tesserini. Le nuove figure serviranno per porre fine ad un fenomeno che sta arrecando non pochi problemi sul territorio, soprattutto agli aziende agricole. I sele controllori sono stati formati per procedere all'abbattimento selettivo degli ungolati in collaborazione con i coriforestali, con i quali sarà avviato un sistema di coordinamento per avere informazioni circa i luoghi dove agire e gli esemplari da abbattere. Quest'ultimi saranno controllati dai veterinari dell'Azre e la loro carne immessa sul mercato ed è questa un'altra importante novità. Oggi per il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, certamente è una giornata bella, importante e significativa perché finalmente presentiamo in modo ufficiale il piano che andrà a fronteggiare già da domani mattina l'emergenza di cinghiali nel nostro territorio. Certo, chi pensa che tra qualche giorno non esisteranno più cinghiali da noi è un'utopia, però certamente oggi siamo in grado con la consegna dei tesserini a circa 230 sele controllori, siamo in grado appunto di mettere in gambo tutta una serie di azioni per fronteggiare quella che è una dell'emergenza più sentita e più avvertita dai nostri cittadini e da tanti agricoltori che vedono purtroppo più volte distrutto il loro sacrificio. Le parole d'ordine sono sele controllo, sono centri di cattura perché noi siamo pronti anche a mettere in gambo la filiera delle carni con i centri di cattura. Le parole d'ordine sono anche monitoraggio, ricerca, chiaramente tutto questo lo abbiamo fatto con grande sinergia e con grande collaborazione, cominciare dall'ATC per quanto riguarda il percorso anche formativo, l'università perché se le controllori hanno fatto tutto un percorso formativo costituito da una parte teorica e da una parte pratica. Poi abbiamo il controllo sanitario quindi la grande sinergia e la collaborazione con l'ASAL perché i controlli delle carni sono fondamentali perché noi oggi dobbiamo poter dire a chi caccia, a chi chiaramente oggi utilizza le carni di cinghiale possiamo, dobbiamo poter dire che quelle carni sono controllate quindi ecco perché l'aspetto sanitario è particolarmente importante e poi tutto questo chiaramente si dovrà verificare, viene organizzato sotto il controllo elegida dei carabinieri forestali che seguiranno chiaramente tutte le operazioni, quindi ringrazio il colonnello Guariglia ma ringrazio tutto il corpo dei carabinieri forestali che ovviamente hanno lavorato con noi sia nella prima fase ma soprattutto continueranno a farlo nella seconda fase quando andranno appunto a monitorare l'azione che avviene sui territori. Quindi non ci saranno coprifuochi, ecco questo lo vogliamo dire, ma ci saranno chiaramente una serie di azioni mirate con delle regole, con dei controlli e l'altra bella novità importante è che laddove ci vengono segnalati delle situazioni di criticità da parte di danni fatti da cinghiali, quindi laddove ci sono anche dei numeri maggiori da parte del numero maggiore di cinghiali, noi lo comunicheremo a quelli che sono i dei controllori che appartengono a quell'ambito per fare anche delle azioni mirate e questa è una novità importante perché potremmo dare come parco delle risposte anche immediate e concrete a quelle che sono le segnalazioni dei cittadini e dei nostri agricoltori.